un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo siamo in quella che era la vecchia clausura ecco la scelta numero uno di padre pio e il percorso che tanti pellegrini devoti ogni giorno fanno all'interno del convento dei frati minori cappuccini spesso vedete in sovraimpressione questa email dove poter inviare le vostre lettere le vostre testimonianze i vostri racconti ecco come padre pio è entrato nella vostra vita le leggeremo tutte sono veramente tante oggi voglio raccontarvi la storia di mamma caterina e di suo figlio giuseppe giuseppe era un ragazzo di 17 anni il 23 febbraio del 2021 un terribile incidente stradale lo ha strappato alla famiglia il 28 ottobre avrebbe compiuto 18 anni giuseppe era un ragazzo che si impegnava nello studio aiutava i compagni scrive mamma caterina soprattutto gli amici che erano in difficoltà era un ragazzo che amava lo sport gli animali infatti con la nonna il papà faceva lunghe passeggiate per scoprire nuove piante piccoli animaletti rispettava l'ambiente faceva di tutto affinché gli amici rispettassero il dono del creato giuseppe amava la fotografia dalle immagini sacre agli animali le chiese con tanta dolcezza e spontaneità faceva anche dei selfie che poi raccontava sui social spesso fotografava immagini di padre pio di gesù della madonna indicando anche la descrizione dettagliata del soggetto fotografato come ad esempio la mamma ci ha inviato e che noi stiamo condividendo con voi un vero esempio per i suoi coetanei scrive mamma caterina che purtroppo si allontanano con molta facilità da dio per intraprendere strade e stili di vita sbagliati mamma caterina dopo il 23 febbraio del 2021 dopo la morte di giuseppe sogna padre pio è un sogno strano un sogno particolare nel sogno si trovava con la sorella di fronte ad un grande piazzale recintato poi la sorella scompare e alla sua destra c'è la figlia di nove anni all'interno del recinto padre pio che aveva in mano un libro bianco con dei disegni di aline animaletti padre pio mentre guardava la figlia con un atteggiamento protettivo e con una voce grossa quasi da far tremare scrive mamma caterina le chiede se avesse mai parlato dell'arca di noè alla figlia mamma caterina non risponde perché impaurita poi prese coraggio rispose di sì precisando che aveva parlato dei conigli in modo particolare ad un certo punto caterina entra nel recinto ma la figlia e padre pio poi non li vede più però scorge all'interno del piazzale una suora vestita tutta di bianco seduta ad una scrivania con una penna e con un libro sembrava una sorta di usciere che annotava chi entrava in quel luogo poi si intravedeva in quel luogo particolare vide lo stesso luogo dove quel 23 febbraio era morto giuseppe mamma caterina comincia a camminare a destra salendo per una strada andando proprio verso il luogo dove era morto il figlio era tutto bianco scrive sia la montagna sia il camion io avevo paura perché lo stesso camion che veniva verso di me lo stesso camion che ha ammazzato giuseppe allora io ho cercato di mettermi in salvo salendo su dei cartoni bianchi proprio qui di nuovo è apparso padre pio che mi ha sostenuta e mi ha dato un libro con la copertina nera e io allora mi sono sentita felice sono tornato indietro alla mia destra c'era una donna vestita di bianco come una suora mi sono guardata mi sono vista anche io vestita come quella donna ad un certo punto eravamo sorridenti felici stavamo bene ho guardato in basso e ho visto che i nostri piedi non toccavano a terra sembrava che scendessimo volando ci guardavamo sorridenti eravamo felici andavamo verso l'ingresso quando mi sono svegliata mi è sembrato di aver vissuto veramente questo sogno sembrava così vero scrive mamma caterina ebbene padre pio in sogno ha rassicurato caterina l'ha aiutata a rafforzare la fede in questo momento così difficile grazie 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 grazie